in alle che non riesce a vincere contro il Benevento, il portiere campano riesce a fare dei miracoli e il Catania si butta bene a vento all'altà, ecco qui per l'assina perché qui c'è il pallone all'avversario, non riesce a segnare, tentativi su tentativi, si vedrà e poi per un pelo il Catania non prende addirittura un gol in contropiede, vedremo il palo colpito dal Beneventano Castano, eccolo qui, l'azione, il tiro e il tiro va a...